Manico di cucchiaro appizzutato. Arma impropria. Manico di cucchiaio appuntito. Appuntito. Pare che trattasi di momento omosessuale. A maresciance, provà. Quello mi faceva l'occhio da pesce. Mi mannava i biettini, i fiori. E poi mi so zompati addosso in tre. Mi si volevano trombare per forza. E io mi so difeso. Ma speriamo che non muore. Ma mica per lui, ma che me frega. Perché io fra due anni sarei uscito. Ti dovresti vergognare. Ah, io mi devo vergognare. Ah, vedi questo. Ma vergognatevi voi. Ma che ride questo? Che è diventato pezzo? Portatelo via, via! Siete voi che me dovete vergognare. Elinquente costituzionale. Certo, il problema è grosso. L'uomo da solo non si abbasta. Se uno gli leva l'elemento femminile...